Francesco, ci incontriamo sempre più spesso, Francesco detto ciccio, ci incontriamo sempre più spesso perché con una certa regolarità stai cominciando a segnare. Oggi la Massese ha segnato all'inizio della gara, poteva sembrare l'inizio di una goleata, poi questi ragazzini vi hanno un po' bloccato. Sì, siamo partiti bene, poi sicuramente con un campo più asciutto sarebbe stato più facile, con le nostre ripartenze, magari arrotondare il risultato. Poi al secondo tempo abbiamo iniziato leggermente un contratto, abbiamo aspettato di prendere lo schiaffo per poi reagire, poi abbiamo creato diverse occasioni e meritatamente abbiamo vinto la partita. Si continua davanti, come avevamo già detto l'altra volta, a fallire un po' troppo. Bisogna cercare probabilmente in settimana di affinare la mira. O anche, ci fanno anche allargare la porta. È difficile perché le regole purtroppo ce le impediscono. No, Tommy oggi è stato sfortunato, ha fatto due o tre conclusioni giuste, è stato sfortunato. Io sulla respinta dei portieri la palla ho un po' frenato, ho perso il tempo, ho calciato piano. Però, ripeto, con un campo più asciutto, dopo aver sbloccato la partita, potevamo sicuramente far meglio. Però sono stati bravi lo stesso. Eravate contro una squadra giovanissima. Avresti pensato, quando hai visto in faccia ai tuoi avversari, di faticare così tanto a vincere la gara? Non ci scordiamo che il Gavorano domenica ci ha pareggiato. Te ho detto l'altra volta, è un campionato difficilissimo. Tutte le partite nascondono insidie e vincerà chi sarà più continuo. Benissimo, ti ringrazio. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te.